Enrico oggi che finale è passato veramente veramente vicino, qual è il primo sentimento? Ma quando ho dovuto chiudere il buco a 400 metri dai primi quattro ho fatto due volate negli ultimi 500 metri e ho provato a perdere un po' lungo sull'ultima per provare diciamo così a scoraggiare gli altri però Velles poi mi ha rimontato e io ero un po' impiantato. Pensi che c'è stato un po' troppo entusiasmo e lanciato troppo presto? Forse sì però nella posizione che ero ho visto che iniziavano a rimontarmi, sono partito e penso che non ho sbagliato niente, è andata così. Comunque le gambe ci sono, domani magari puoi riprovare? Sì domani un'altra un'altra tappa bella, intanto possiamo recuperare l'altra tappa da oggi, è un'altra tappa bella un'altra tappa? Sì domani